Beh, oggi potremmo anche iniziare così. Eh sì, effettivamente. Oggi parliamo di una parola così utile che si usa quasi sempre. Così. Così. Perché la parola così è così utile? È così frequente. Perché ha tre significati molto comuni in italiano. Quindi è una parola che si sente sempre. Il primo significato è in questo modo, che si può tradurre in inglese con like this o like that. Ora vediamo alcuni esempi. Iniziamo con l'episodio nel quale abbiamo chiesto agli italiani con chi andresti a cena. Io andrei a cena con uno dei scrittori famosi italiani, per esempio Dante o qualcuno così. Quindi questa Beatrice l'avrà incontrata nella sua vita e da lì è partito un po' il suo viaggio, diciamo anche mentale, psicologico. Quindi penso risponderebbe così. Oppure quando abbiamo chiesto agli italiani delle loro preferenze. Preferireste avere un lavoro bello che paga poco o un lavoro brutto che paga molto? La prima, la prima. Bello che paga poco. Perché? È così, ti vivi la vita meglio, magari, non so. E cosa facevano quella sera? Ci sono occasioni in cui magari è più bello anche stare in casa, magari cucinare un risotto, qualcosa di così, a pranzo il più... E parlando delle donne italiane. Secondo me sì, una volta la donna stava a casa, teneva i figli, adesso è molto meno così. Essendo siciliana con le donne siciliane di un tempo, che comunque erano perennemente in casa, da accudire la famiglia, cucinare, sistemare la casa, c'era anche molta gelosia, possessività da parte dell'uomo nei confronti della donna. Mentre adesso sicuramente non è più così. In questo episodio invece abbiamo chiesto ai napoletani cosa è mancato di più durante il primo lockdown. Inizia tu? Il lungomare, vedere la città, rimanere chiusi in casa è un bel colpo, specialmente per chi vive in una città dove hai il mare a due metri da casa. Quindi sicuramente uscire, prendere un po' d'aria sul lungomare, in tutti questi posti così. Qui invece parliamo di come rompere il ghiaccio in situazioni quotidiane. Faccio un complimento, tipo se è una ragazza le dico bella giacca, così così. Oppure parlo del tempo, non lo so. Anch'io del clima, se va freddo, cioè così, del più del meno. Ma di solito non parlo in realtà. Brody? Oddio, c'è il silenzio. Dov'è Brody? Il silenzio è la cosa peggiore. Brody? E te lo sei portato laggiù? No, sta mangiando il baggiù. Brody si sta arrabbiando con il divano. Non è più terza persona, ma Brody si arrabbia con il divano. Si sentiva un po' esclusa e... È venuta qua a salutarvi. Se volete una mano per imparare di più da questa puntata, potete entrare a far parte della nostra comunità Patreon. Così troverete materiali come esercizi, audio lento e video per aiutarvi a migliorare il vostro italiano. Basta cliccare il link in descrizione. Il secondo significato è simile a quindi, cioè introduce un motivo per fare qualcosa. Brody si sentiva esclusa, così lo prese in braccio. Stamattina Matteo aveva fame, così è sceso al bar per fare colazione. Ora vediamo un paio di altri esempi. Siamo in visita in Italia questa settimana che viviamo all'estero e quindi insomma... È una bella cosa, siamo circolati da amici che cucinano e hanno buon gusto. Ecco, così ci godiamo... ci godiamo l'Italia. Con Alberto Sordi credo, così per farmi due risate, almeno... o con Totò, una roba del genere. Quando leggete la parola così vedrete che c'è un accento sulla i e infatti anche quando parliamo dobbiamo mettere l'accento sulla i. Quindi diciamo così, così è non così, ma così, così. Ora ascoltiamo il nativo. Così, così, così. Invece con il terzo significato vogliamo enfatizzare qualcosa. Per esempio, Brody è così carina. O così piccola. O così una peste. Oppure registrare una puntata con un cucciolo è così difficile. Com'è stato per lei? Lei è del Kosovo e lì c'è stata una guerra e quindi com'è stato per la sua famiglia trasferirsi? E in così poco tempo, la guerra è finita nel 2008, diventare la numero uno mondiale cantante del momento. Quindi sarebbe molto interessante per quelli. Poi ci sono altre frasi con così. Per esempio, così, così. Come stai? Così, così. Com'è il tempo? Così, così. Come la pizza? Così, così. Vuol dire non è buonissima, non è bruttissima, è così, così. E a volte usiamo anche questo gesto. Così, così. Così, così. Oppure un'altra frase particolare è così per dire. Ah, oggi mangerei un bisonte. Era così per dire. Ovviamente. Oppure... Ah, Brody, sei così bella che ti mangerei. Così per dire. Così per dire. Sì. Non la mangerei mai. Poi c'è la combinazione così come per la quale ci sono così tanti significati che potrebbe avere una puntata sua. Però visto che stiamo parlando di così, pensavamo di parlare un poco anche di questa espressione. Quando separiamo così e come, stiamo praticamente facendo un paragone. Cremosità diversa, magari il gusto non è così intenso come quello italiano. Per esempio, in questo esempio abbiamo parlato del gelato e abbiamo paragonato il gelato italiano a quello estero. Quindi, così, aggettivo, come. Matteo, non è così carino come Brody. Brody non è così buona come sembra. O tutte le cose che vedi in vetrina o che vedi prima di assaggiare, spesso non sono così buone come sembrano. Matteo è molto bravo a cucinare, però il suo risotto non è così buono come il mio. Beh, bello. Mentre se usiamo insieme così come, diventa un po' più come Just Like. Brody mangia tanto così come tutti gli altri cuccioli. Abbiamo cucinato tantissimo durante il lockdown così come tante altre persone. Abbiamo parlato così tanto di così che non so più cos'è. Quindi facciamo un piccolo riassunto. Ci sono tre significati principali. Il primo è in questo modo. Il secondo è quindi. E il terzo è per enfatizzare. Poi ci sono delle frasi come così così e così come. E voi scriveteci una frase usando così nei commenti. Ciao. Ciao. Brody saluta. No. Dorme. Dorme. Ciao.